I fosi giallorossi, la più cordiale buonasera dallo stadio Domenico Francioni di Latina, penultimo test amichevole per la Roma di Luciano Spalletti che affronta il Latina. Chiama lo schema Totti, movimento di Perotti, incontro, Totti va su Pinsoglio e gol! Il gol di Fazio che sblocca il risultato! Il gol di Fazio che sblocca il risultato! Palla fuori, peccato! Sei uomini in area di rigore, colpo di testa di Turbe sul secondo palo. Non finisce l'azione della Roma che mantiene la continuità in area di rigore, attenzione perché è vicinissimo al colpo di testa Vermeulen. Ancora in area di rigore, in mezzo Vermeulen! Palla fuori! Tutto è pronto, calcio di punizione. Batte Scaglia ed Alisson va a prendere senza problemi. Salah in area di rigore, Salah, Salah palla in mezzo per Kevin Strootman che può andare a concludere Pinsoglio in due tempi. E' l'occasione più ghiotta della ripresa. Bravo Pinsoglio! E ora riparte in contropiede in latina. Scaglia, prova a cambiare gioco dall'altra parte. Regolanti, bella la giocata! Pallone fuori! De Rossi ha recuperato il pallone, i Turbe può partire. Bella palla per Salah, che può andare poi a cambiare gioco. Per il Sharawi, si apre lo spazio adesso il Sharawi, la sua giocata. Il Sharawi se la mette sul destro, Pinsoglio ancora. Ciao!